Ciao, sono Simone Bortolami, insegnante di chitarra qui a Cantarte Music Academy Padova. Qui a Cantarte avrei la possibilità di portarti a casa ogni lezione in formato audio o in formato video, in modo da avere ogni volta un tutorial personalizzato. Siamo centro registrato Trinity College di Londra, potrai quindi certificare il tuo percorso di studi. Queste certificazioni sono riconosciute sia dallo Stato italiano che dalla comunità europea. Se sei appassionato di jazz e vuoi intraprendere quel percorso, siamo convenzionati anche con il Conservatorio Pollini di Padova. Vi aspetto qui a Cantarte per la vostra lezione di prova gratuita. Se desideri maggiori informazioni su di me o sulla scuola, visita Cantarte.it o seguici su Facebook. Ciao! Vi aspetto qui a Cantarte per la vostra... Ho detto... Ho detto...